La necessità di rafforzare gli investimenti nell'ambito della prevenzione delle patologie oncologiche procedendo anche in Basilicata ad un rapido recupero delle prestazioni sanitarie, visite, interventi e screening non effettuate per effetto del Covid e di garantire ai soggetti che sono portatori di particolari mutazioni dei geni BRCA1 e o BRCA2 a maggior rischio di sviluppare tumori, di usufruire in via strutturale di protocolli di diagnosi, trattamento e assistenza per persone ad alto rischio eredo familiare con esclusione dal pagamento del ticket per le prestazioni ricomprese in questi casi. E' stato questo il tema della conferenza stampa tenuta dal capogruppo di Fratelli d'Italia della regione Basilicata Giovanni Viziello alla quale hanno partecipato anche la consigliera regionale di parità Ivana Pipponzi collegata in remoto da Matera, la presidente della commissione regionale della parità e pari opportunità della Basilicata Margherita Perretti e la consigliera regionale di parità Vicaria Rossana Mignoli. Nel corso dell'incontro con i giornalisti il capogruppo Viziello ha illustrato la mozione sull'argomento mentre i Pipponzi, Perretti e Mignoli si sono soffermate sull'importanza dello screening oncologico e sulla necessità di recuperare il tempo perso nel corso della pandemia.